Per uscire da questa presunta crisi, lo Stato italiano ci chiede di pagare tasse su tasse. Ma io sono un disoccupato, io soldi non ne ho più, non ho più identità, non ho più dignità. Cosa fare? Vendo un rene. Perché? Perché voglio uscire dalla crisi. Perché questo sistema non lo combatti se non paghi, ce lo dice il governo, ce lo dice lo Stato. Il popolo italiano deve pagare per uscire dalla crisi, il popolo italiano deve tacere per uscire dalla crisi, il popolo italiano infine deve morire per uscire dalla crisi.